Hai mai avuto la sensazione che qualcuno ti chiami senza sentire una voce? Immagina di camminare da sola o da solo, sotto un cielo stellato. Tutto è calmo, ma dentro di te cresce un'urgenza che non ti spieghi. È come se la tua fiamma gemella cercasse il tuo aiuto attraverso un legame spirituale invisibile. Questo video è per chi avverte questo profondo richiamo e desidera sapere come rispondere. Resta con noi per scoprire i segnali di difficoltà della tua fiamma gemella e come puoi aiutarla, nonostante la distanza. Continua a guardare per capire come diventare il sostegno vitale che la tua fiamma gemella tanto cerca. Oggi sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per altri viaggi spirituali insieme. Hai mai sperimentato una tristezza profonda e improvvisa che sembra non avere origine nei tuoi pensieri o nelle tue circostanze immediate? Se ti è capitato, potresti aver vissuto un fenomeno sorprendentemente comune tra coloro che hanno una connessione profonda con una fiamma gemella. Queste esperienze possono essere confuse e sconvolgenti, ma hanno radici in un legame che va oltre la semplice presenza fisica. La fiamma gemella non è solo un'altra persona significativa. È un riflesso del tuo stesso spirito, un'entità con cui condividi un'antica e profonda connessione spirituale. Quando questa persona speciale sta attraversando un momento difficile, il legame che vi unisce può trasmettere le sue emozioni direttamente al tuo cuore, indipendentemente dalla distanza che vi separa. In questi momenti, le tue emozioni possono rispecchiare le sue, creando un eco emotivo che risuona dentro di te. Questo fenomeno può apparire come un'ondata di tristezza improvvisa, un dolore che ti avvolge senza preavviso. Non è un dolore solo tuo, ma condiviso, nato dalla tua profonda empatia per la tua fiamma gemella. È un segnale silenzioso che indica un disagio o una difficoltà che sta vivendo la persona a te profondamente connessa. Affrontare queste emozioni può mettere in dubbio la tua stabilità emotiva, ma riconoscere e accettare il legame con la tua fiamma gemella ti aiuta a gestirle. Questa consapevolezza può spingerti a contattare la tua fiamma gemella, offrendo supporto e conforto reciproco quando necessario. I sogni hanno sempre avuto un ruolo misterioso e affascinante nelle nostre vite, servendo come porte verso il nostro subconscio, luoghi in cui le nostre paure più profonde, desideri nascosti e verità non dette si manifestano in forme spesso simboliche e intriganti. Ma quando si tratta della connessione con una fiamma gemella, i sogni possono assumere un ruolo ancora più significativo, trasformandosi in veri e propri canali di comunicazione. Immagina di chiudere gli occhi alla fine di una lunga giornata e di ritrovarti in un mondo dove le barriere della fisicità e del tempo non esistono più. Qui, nel regno dei sogni, ti ritrovi spesso faccia a faccia con la tua fiamma gemella. Questi incontri onirici possono variare in intensità e natura, ma spesso portano con sé un senso di urgenza e profonda emotività. Potresti vedere la tua fiamma gemella cercare aiuto, conforto o magari cercare di guidarti attraverso situazioni difficili. Questo tipo di sogni non è casuale. Quando la tua fiamma gemella appare nei tuoi sogni in questi modi, è probabile che il suo spirito stia cercando attivamente di connettersi con il tuo. In questi momenti, il legame che vi unisce si esprime nella sua forma più pura e diretta, creando un ponte che supera le distanze fisiche e le complicazioni del mondo reale. Nei sogni, la tua fiamma gemella potrebbe cercare conforto o offrirti sostegno e consigli. Questo dialogo silenzioso ma intenso usa emozioni e sensazioni come linguaggio principale. Interpretare questi messaggi richiede sensibilità e attenzione, essenziali per mantenere e nutrire il vostro legame speciale. Ascoltare e rispondere a questi messaggi onirici può aumentare la tua consapevolezza e migliorare il tuo legame con la fiamma gemella. Ti spinge a prendere decisioni equilibrate, rispondendo alle necessità di entrambi e rafforzando la vostra intesa. A volte, il nostro corpo parla prima della nostra mente, inviando segnali che qualcosa non va, che una tempesta emotiva si sta avvicinando o che un legame invisibile ci sta tirando in una direzione non prevista. Quando sei connesso profondamente con una fiamma gemella, questi segnali possono manifestarsi in modo ancora più intenso e sorprendente, riflettendo non solo il tuo stato interno ma anche quello della persona a cui sei così profondamente legato. Immagina di sentirti improvvisamente ansioso senza una ragione apparente, o di avvertire un'agitazione inspiegabile che ti fa battere il cuore più forte e più veloce. Potresti persino avvertire un malessere fisico, come un nodo allo stomaco o un improvviso mal di testa, sintomi che sembrano emergere dal nulla. Questi momenti possono lasciarti confuso e preoccupato, domandandoti cosa possa essere andato storto nel corso di una giornata apparentemente normale. In realtà, questi segnali fisici e emotivi sono spesso il modo in cui la tua connessione spirituale con la tua fiamma gemella risponde agli squilibri o alle difficoltà che essa sta vivendo. Il vostro legame è così profondo che le emozioni e persino le crisi fisiche possono trasmettersi a distanza, facendoti sentire come se stessi vivendo quelle stesse emozioni o quegli stessi dolori del corpo. Accettare e comprendere questa realtà può aiutarti a gestire meglio queste sensazioni. Riconoscere che la tua ansia o malessere fisico possono essere segnali dalla tua fiamma gemella ti apre nuove prospettive per affrontarli. Piuttosto che sentirsi sopraffatti, puoi vedere questi segni come un invito a connetterti con la tua fiamma gemella, offrendo supporto o condividendo vicinanza emotiva. Affrontare queste esperienze con cura e consapevolezza non solo allevierà il tuo disagio, ma rafforzerà anche il legame con la tua fiamma gemella. Questo processo trasforma il vostro legame in un canale per la condivisione emotiva e il supporto reciproco, rendendovi più forti di fronte alle sfide della vita. Ci sono momenti nella vita in cui sentiamo il bisogno impellente di ritirarci dal mondo esterno, di prendere una pausa dalle interazioni sociali che di solito riempiono i nostri giorni. Questo bisogno può sembrare sorgere dal nulla, ma spesso, quando esiste un legame profondo e spirituale con una fiamma gemella, tale necessità ha radici ben più profonde e significative. Quando la tua fiamma gemella ha bisogno di te, questo impulso di ritirarti non è un segno di depressione o di malinconia senza motivo. È, piuttosto, una chiamata del tuo essere più intimo, un bisogno del cuore e dell'anima di connettersi a un livello più profondo e sincero con la persona che rispecchia la tua essenza più vera. In questi momenti, il tuo spirito sa intuitivamente che per ascoltare e interpretare i segnali della tua fiamma gemella, devi liberare spazio mentale ed emotivo, devi silenziare il rumore del quotidiano per sentire quella voce sottile ma chiara che parla dal profondo. Questo ritiro sociale è cura personale e connessione spirituale, un tempo per rafforzare il legame con la tua fiamma gemella. Concentrandoti su meditazione e riflessione, o vivendo appieno le tue emozioni, ti apri a scambiare messaggi fondamentali per il benessere di entrambi. Durante questi ritiri, non è raro scoprire intuizioni profonde o sincronicità che rivelano la natura speciale del tuo legame. Potresti notare che pensieri e sentimenti che credevi isolati sono in realtà condivisi, riflettendo le preoccupazioni o speranze della tua fiamma gemella e mostrando quanto siano intrecciati i percorsi delle vostre vite, anche a distanza. A volte il legame con la tua fiamma gemella trasmette messaggi così potenti che il confine tra il fisico e il metafisico sembra dissolversi. Questi segnali possono essere così intensi e tangibili da sentire sul corpo come un'onda energetica che ti travolge, un messaggio impossibile da ignorare. Immagina di essere colpito da un brivido improvviso che ti percorre la schiena, un fremito che sembra nascere dal nulla ma che porta con sé un senso di presenza e urgenza. Oppure, potresti avvertire un palpito del cuore che accelera inaspettatamente, come se stesse rispondendo a un richiamo silenzioso, un segnale che la tua fiamma gemella sta cercando di raggiungerti attraverso le barriere dello spazio e del tempo. Questi impulsi energetici non sono solo reazioni fisiologiche, sono la manifestazione fisica di un legame spirituale che ti connette alla tua fiamma gemella. Possono presentarsi come una sensazione di energia che scorre intensamente attraverso il tuo essere, un flusso che riempie ogni cellula del tuo corpo e risveglia la tua consapevolezza di quella connessione profonda e indissolubile che condividi. Questi momenti possono sorprendere o sconcertare, ma ricordano la forza del vostro legame. Quando emergono questi segnali, è come se la tua fiamma gemella parlasse direttamente alla tua anima, in un linguaggio che solo il tuo cuore può veramente capire. Ascolta attentamente questi segnali, poiché la tua fiamma gemella potrebbe trasmetterti messaggi vitali di conforto o avviso. Rispondi calmando la mente e aprendo il cuore, lasciando che queste energie ti guidino verso una maggiore comprensione o azioni necessarie per rafforzare il vostro legame. Quando si parla di fiamme gemelle, ogni dettaglio sembra assumere un significato più profondo, trasformando le coincidenze apparenti in segnali carichi di messaggi. Le sincronicità, quei momenti in cui l'universo sembra allinearsi perfettamente per comunicare qualcosa, sono frequentemente sperimentate da coloro che condividono questo legame unico e profondo. Immagina di notare numeri ripetuti sugli orologi, sui numeri di targa, o sugli scontrini. Ad esempio, l'orologio mostra le 11 e 11 ogni volta che ti trovi a pensare intensamente alla tua fiamma gemella, o magari il tuo sguardo cade su una data particolare che ricorre, il giorno del vostro primo incontro, o un altro anniversario significativo. Queste non sono semplici coincidenze, ma segnali che la tua fiamma gemella potrebbe star cercando di comunicare con te attraverso il linguaggio universale dei numeri. Anche le canzoni possono diventare messaggeri in questo gioco cosmico. Forse una canzone che ha un significato speciale per la vostra relazione inizia a suonare inaspettatamente alla radio o in un locale quando ti senti particolarmente solo o confuso. Ascoltare quel brano in quel momento preciso può darti la sensazione che la tua fiamma gemella sia lì con te, cercando di offrirti conforto o un promemoria della vostra connessione eterna. Nomi e date ricorrenti possono essere dolci promemoria o richiami urgenti. Potresti notare il nome della tua fiamma gemella inaspettatamente o vedere la sua data di nascita in contesti insoliti. Questi momenti, come lampi di luce, suggeriscono che qualcosa di profondo sta emergendo sotto la superficie. Questi segni sono inviti a rimanere aperti e sensibili ai messaggi della tua fiamma gemella, che possono essere richieste di aiuto, dimostrazioni d'amore o promemoria della sua presenza. Rispondere riflettendo o agendo in base a questi segnali può rafforzare il vostro legame e aiutarvi a superare le sfide della vita con maggiore consapevolezza e connessione. Ci sono momenti in cui la distanza fisica tra due persone sembra svanire, superata da un legame che trascende le leggi dello spazio e del tempo. Questo è particolarmente vero per coloro che condividono una connessione di fiamme gemelle, un legame così profondo che la presenza dell'altro può essere avvertita anche quando migliaia di chilometri vi separano. Immagina di trovarti in un momento di solitudine o di riflessione e, all'improvviso, sentire una calda presenza accanto a te. Non c'è nessuno in vista, nessun tocco fisico, ma l'aria intorno a te sembra vibrare con un calore rassicurante, quasi come se la tua fiamma gemella fosse seduta al tuo fianco, condividendo il momento senza bisogno di parole. Questa sensazione può manifestarsi anche attraverso odori improvvisi che evocano ricordi potenti, il profumo particolare del suo profumo o di un ambiente che avete frequentato insieme. È come se, attraverso questi sensi, la tua fiamma gemella stesse comunicando la sua presenza, inviandoti un messaggio di conforto e di amore attraverso le barriere immateriali che vi separano. Accanto a questi segnali sensoriali, potresti sentire una pace interiore, un conforto che sembra emergere dal nulla. Questo sentimento è un dono prezioso, segno che la tua fiamma gemella è con te in spirito, offrendoti sostegno e compagnia. È un promemoria che, nonostante la distanza fisica, il vostro legame rimane intatto e forte. Accettare questa presenza invisibile può consolare profondamente e agire come strumento di guarigione nelle sfide della vita. Ti ricorda che non sei mai solo e che l'amore con la tua fiamma gemella è una fonte incessante di forza e ispirazione. Nel misterioso viaggio delle fiamme gemelle, la comunicazione telepatica rappresenta uno dei fenomeni più affascinanti e intensi. È una forma di connessione che va oltre la semplice conversazione verbale, toccando le corde più profonde dell'intuito e dell'anima. Durante periodi di particolare necessità o crisi, questa comunicazione può diventare notevolmente intensa, quasi come se il legame tra te e la tua fiamma gemella cercasse di superare ogni ostacolo per trasmetterti messaggi urgenti e necessari. Immagina di trovarti in un momento qualunque della tua giornata e all'improvviso ti ritrovi sommerso da pensieri intensi sulla tua fiamma gemella. Questi pensieri possono apparire senza un motivo apparente, ma la loro intensità è tale da farti fermare e riflettere. Potrebbero emergere frasi complete o parole specifiche nella tua mente, che senti non originarsi da te, ma inviate direttamente dalla tua fiamma gemella. È come se, attraverso queste parole non pronunciate, essa cercasse di farti sapere della sua situazione attuale, del suo bisogno di supporto o conforto. La comunicazione telepatica tra fiamme gemelle supera i limiti geografici e può manifestarsi inaspettatamente, rivelando direttamente le esperienze della tua fiamma gemella. Può essere un grido di aiuto, un'espressione d'amore o un avvertimento. Questo segnala che la tua fiamma gemella potrebbe essere in una crisi emotiva o spirituale e che il vostro legame speciale sta facilitando questa comunicazione per trasmettere un messaggio importante. Per accogliere questi messaggi, servono un cuore aperto e una mente attenta. Ascolta profondamente, sintonizzandoti con le emozioni e le energie oltre le parole. Rispondere può significare meditare, inviare energie positive o, se possibile, contattare direttamente. A volte, nel profondo legame che unisce le fiamme gemelle, emergono sensazioni intense che sembrano spuntare dal nulla, imponendosi nella routine quotidiana con una forza inaspettata. Tra queste, il senso di disperazione o urgenza è particolarmente significativo, poiché può riflettere non solo le proprie emozioni ma anche quelle della propria fiamma gemella. Questi sentimenti possono essere così potenti e acuti da sentirsi spinti verso un'azione immediata, come se qualcosa dentro di noi sapesse che è necessario intervenire, anche senza una spiegazione logica. Immagina di trovarti in un momento di calma apparente, e all'improvviso ti assale un'ansia improvvisa, una sensazione di urgenza che ti fa sentire come se dovessi fare qualcosa subito. Questo impulso può manifestarsi come un bisogno incontrollabile di contattare la tua fiamma gemella, o di modificare radicalmente un aspetto della tua vita che fino a quel momento sembrava stabile e sicuro. Questo senso di urgenza può confonderti, poiché sembra non avere radici nei fatti immediati della tua esistenza, ma è importante ascoltare queste sensazioni con attenzione e rispetto. Spesso, questa urgenza è un segnale che la tua fiamma gemella sta attraversando un periodo di grande difficoltà o cambiamento, e che il vostro legame profondo ti sta spingendo a supportarla in qualche modo. Può essere un invito a offrire sostegno emotivo, a inviare energie positive, o anche a intraprendere un cambiamento vitale che potrebbe migliorare non solo la tua vita, ma anche quella della tua fiamma gemella. Rispondere a questi impulsi richiede coraggio e fiducia, dato che agire su sensazioni intense e senza un fondamento razionale può sembrare intimidatorio. Le fiamme gemelle, tuttavia, sono unite da un legame che supera la logica comune e comunicano su frequenze che solo cuore e anima possono riconoscere istintivamente. Quando avverti un'urgenza improvvisa, prendi una pausa per riallinearti e connetterti con la tua fiamma gemella. Rifletti sui tuoi sentimenti e scovane il significato. Aprirti a queste sensazioni può rivelarti intuizioni preziose e guidarti verso azioni essenziali per il vostro supporto e crescita reciproca. Grazie per aver partecipato a questo viaggio alla scoperta dei segnali della tua fiamma gemella. Ricorda, ogni sensazione e coincidenza potrebbe nascondere un messaggio profondo. Se questo video ha toccato il tuo cuore e desideri approfondire i misteri delle fiamme gemelle, iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche per non perdere i nostri aggiornamenti e continuare a crescere insieme. Lascia un like se il video ti è piaciuto e condividilo con chi potrebbe trovare ispirazione. Commenta qui sotto le tue esperienze o pensieri. Amiamo ascoltarvi e la vostra interazione arricchisce tutti noi. Grazie per il tuo tempo e la tua presenza. Non sei mai solo nella tua ricerca e il cammino con la tua fiamma gemella è un'avventura che merita di essere vissuta. Al prossimo video. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.